Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Millequadri. In questo video vi parlerò di un pittore Giovanni Segantini che è conosciuto soprattutto per due aspetti. Uno è la tecnica divisionista di cui era un grande maestro e l'altro è l'utilizzo di tematiche simboliste che caratterizzano soprattutto l'ultima fase della sua attività. Mi dedicherò soprattutto alla presentazione di un dipinto, Le Cattive Madri, che è conservato a Vienna e che fa parte di una serie di opere più ampia che ne comprende almeno quattro. Uno è appunto Le Cattive Madri, poi c'è Il Castigo delle Lussuriose e poi due monocromi che riprendono i due dipinti principali. Il video si completa con altre opere sempre di Segantini centrate sul tema della maternità che fu fondamentale nel suo percorso artistico. Buona visione! Per inquadrare la figura di Segantini che vedete in un autoritratto a carboncino del 1895 e comprendere a fondo le opere che presenterò in questo video, è importante dare qualche cenno biografico. Il pittore ebbe un'infanzia molto difficile. Nato ad Arco in Trentino nel 1858, perse la madre a sette anni ed il padre lo affidò alle cure della sorellastra che viveva a Milano. Di fatto però il piccolo Segantini era abbandonato a se stesso, al punto da essere arrestato per vagabondaggio e rinchiuso in riformatorio dove rimase per alcuni anni. La passione per l'arte si fece presto strada nel ragazzo che si iscrisse ai corsi serali dell'Accademia di Brera, che frequentò per tre anni. Una svolta importante per Segantini fu il contatto con un importante gallerista, Vittore Grubiside Dragon, grazie al quale ottenne visibilità e di primi successi. In questa prima fase della sua attività il pittore si dedica soprattutto a paesaggi agresti con un'ispirazione che lo avvicina a Millet e alla scuola di Barbizon. Nel 1886, a 28 anni, il pittore abbandonò Milano e la pianura e si ritirò in montagna, nei Grigioni, in Svizzera. Qui le sue opere iniziarono ad essere intrise di un simbolismo quasi mistico. Segantini, pur avendo profonde lacune culturali, aveva una personalità curiosa ed era un vorace lettore. Si appassionò a Schopenhauer e Nietzsche, che influenzarono la sua visione dell'arte. La tecnica che iniziò ad adottare il pittore era quella di visionista, che prevede l'utilizzo di colori puri, non mescolati, ma stesi in sottili filamenti accostati. Questa trama filamentosa, vista da un'adeguata distanza, rende il colore uniforme e vibrante. L'opera di promozione di Vittore Grubisi continuò negli anni e contribuì ad affermare anche all'estero la figura di Segantini, che iniziò anche a collaborare con alcune riviste d'arte. Il dipinto che ho scelto di analizzare in questo video, Le cattive madri, rientra in un interesse più ampio di Segantini per il tema della madre, interesse che lo accompagnò per tutta la vita. L'assenza di una figura materna e la difficile infanzia contribuirono ad alimentare l'interesse del pittore per il tema. Quale esempio di questo percorso? Potete vedere nell'immagine Le due madri del 1889, dove con una tecnica già divisionista sono messe a confronto una madre col bambino ed una mucca con il vitellino. Ma veniamo al dipinto che analizzo in questo video, o meglio i dipinti. Sotto il nome Le cattive madri possiamo infatti comprendere un ciclo di almeno quattro opere, due principali ad olio su tela che formano una sorta di dittico e due monocromi su cartoncino. La prima di queste opere in ordine cronologico è Il castigo delle lussuriose, che presenterò più avanti. La seconda è Le cattive madri, il dipinto più conosciuto che vedete nell'immagine e che risale al 1894. A seguire vennero realizzati tra il 1896 e il 97, ispirandosi ai due quadri appena citati, due monocromi su cartoncino graffito, entrambi conservati alla Kunsthaus di Zurigo. Per comprendere l'ispirazione che si cela dietro questo ciclo di opere è necessario accennare ad un poemetto intitolato Nirvana, scritto da Luigi Illica, che vediamo nella foto. Segantini, che era un avido lettore, ne venne folgorato. Questo testo era a sua volta ispirato al poema di un monaco medievale, Alberico da sette frati, nel quale alcune donne, che hanno rinunciato per vari motivi a ruolo di madre e spiano la loro colpa in un purgatorio ghiacciato. Il testo di Luigi Illica, noto librettista di compositori quali Puccini, Mascagni e Giordano, è reazionario, in quanto riduce il ruolo della donna a quello di madre e viene considerato dalla critica di scarso valore letterario. Ma Segantini, che già si era ritirato in montagna e che viveva sempre più il proprio ruolo di artista profeta, trasse da quelle righe l'ispirazione per visioni fantastiche e pregne di simbolismo, ambientate tra i ghiacci delle sue amate montagne. Le Cattive Madri è un dipinto del 1894, un olio su tela che misura 120 x 225 cm, conservato all'österreichische Galerie Belvedere di Vienna. Il dipinto è estremamente panoramico, con sviluppo orizzontale e ci presenta una landa desolata coperta da neve ghiaccio. Con questa visione, Segantini, ispirato dal testo di Illica, intendeva mostrarci la propria visione del castigo delle madri in un luogo assimilabile ad un purgatorio. In fondo a questa ampia distesa in ombra, vediamo il profilo di alcune montagne. Solo nella parte destra le cime sono raggiunte dai raggi del sole. Il quadro è dominato dall'albero spoglio posto in primo piano. Dal tronco principale se ne biforcano due e poi ancora dei rami. Nel complesso, Segantini, dà a questo albero una curvatura d'arco. L'aspetto sorprendente ed anche inquietante è la presenza di una figura femminile impigliata. Questa donna, seminuda e coperta da una veste leggera, si inarca nel verso opposto a quello dei rami. La visione diventa così estremamente aggraziata e flessuosa. Una visione che anticipa le linee morbide, sinuose ed avvolgenti dell'art nouveau internazionale. La forza evocativa di questo quadro, quindi, senza indugiare al momento sul suo significato, sta proprio in questa immagine misteriosa ed intrigante sul piano estetico, della donna e dell'albero immersi nel silenzio dei ghiacci della montagna. Per descrivere l'atmosfera del quadro riprendo le parole dello stesso pittore, che in una lettera pubblicata sulla rivista della secessione viennese Versacrum nel 1899 scrive «Quando vogli castigare le cattive madri, le vane sterili lussuriose, dipinsi i castighi in forma di purgatorio». Ed ancora riprendo i versi di Luigi Illica, che così descrive il contesto dove si consuma l'espiazione delle colpe delle madri. «In valle a livida per ghiacci eterni, dove non ramo in verda o fiore sbocci». Veniamo ora a comprendere la complessa simbologia del quadro. Tre sono le fasi della espiazione delle colpe che portano fino alla redenzione. Nella parte sinistra del dipinto vediamo una madre imprigionata nell'albero, che ode la voce del proprio bambino. La testolina spunta dal terreno in prossimità delle radici, rompendo il ghiaccio. La seconda fase è quella che vediamo nell'albero in primo piano. La testa di un bambino esce da un ramo e si attacca al seno della madre, che è in preda al tormento, proprio nel momento del ricongiungimento con il bimbo che aveva rinnegato in vita. Per questo si inarca e si agita. Tornando nella parte sinistra, oltre l'albero, appena accennate vediamo delle donne che avanzano e che dovrebbero portare con sé i propri bambini. Per loro è cominciato il percorso verso il Nirvana. Il dipinto non ebbe successo, anzi, venne stroncato come astruseria simbolica. Ma il quadro trovò niente meno che nell'imperatore Francesco Giuseppe un ammiratore, tanto che il dipinto venne acquistato e confluì nelle raccolte viennesi. Gli stessi artisti della secessione esaltarono l'opera, che diventò uno dei quadri più importanti dell'intero simbolismo europeo. Può essere utile, per comprendere meglio questi tre momenti dell'espiazione della colpa, spostarci sul monocromo conservato a Zurigo. Sulla sinistra intravediamo appena la testolina che emerge dalla neve sotto alcuni rami. L'albero con la donna è impigliata in primo piano e invece molto simile al quadro originale. Appena dietro questo albero vediamo, diversamente dal quadro di Vienna, due donne che avanzano e queste dovrebbero rappresentare in modo più chiaro il cammino verso il Nirvana. Il castigo delle lussuriose che vediamo nell'immagine è antecedente alle cattive madri e risale al 1891. Il dipinto è un olio su tela che misura 99 x 173 cm ed è conservato alla Walker Art Gallery di Liverpool. Il dipinto venne presentato all'esposizione universale, che si tenne a Berlino, ma non ebbe successo. Questo non impedì al pittore di continuare ad interessarsi al poemetto di Illica, che come abbiamo visto gli ispirerà il secondo quadro del Dittico. L'ambientazione di questo quadro è simile al precedente. Anche qui osserviamo un paesaggio desolato dove però alcune donne fluttuano nell'aria. Queste donne, in attesa della loro redenzione, sono rappresentate da segantini come desiderabili, a seno scoperto e con una lunga fluente chioma. Ne osserviamo due in primo piano e poi altre tre in sequenza nella parte sinistra, che danno così profondità al dipinto. Questo quadro è più luminoso delle cattive madri e viene esaltata maggiormente la tecnica divisionista, di cui Segantini era un grande maestro. La visione a video non renderà purtroppo mai giustizia alla fitta trama di filamenti di cui sono composte le opere di questo pittore. Dalla pianura emergono tronchi spogli e contorti, quegli stessi tronchi che saranno poi ripresi nelle cattive madri, ma anche, come vedremo, in altre opere del pittore. Lo sviluppo del quadro è fortemente orizzontale e scenografico, scandito dal bellissimo profilo delle montagne e dalla linea dei ghiacci. Anche il castigo delle lussuriose ha la sua versione a monocromo. Nella parte sinistra del dipinto vediamo tre donne che fluttuano nell'aria, mentre nella parte destra compare un albero con i rami secchi e contorti. Per chiudere la rassegna di opere di questo video ho pensato di presentarvi L'Angelo della Vita, che è una versione profana del tema della Madonna col bambino. L'Angelo della Vita è un olio su tela datato 1894, misura a centimetri 276 x 212 ed è conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. La madre è seduta come su un trono, formato dai contorti rami di una betulla. Parte dei rami sono secchi, mentre a sinistra stanno fiorendo. Qui Segantini allude alla ciclicità della vita, al suo eterno fiorire e sfiorire. Attraverso la presentazione di diverse opere vi ho mostrato il rapporto complesso che Segantini aveva con il tema della maternità. Ispirato da un poemetto di dubbio valore, il pittore ha realizzato uno dei capolavori del simbolismo, le cattive madri. Fatemi sapere nei commenti se avete gradito il video e iscrivetevi al canale. Scrivetemi anche quale dipinto avete preferito tra quelli che vi ho presentato, se le cattive madri, il castigo delle lussuriose o altri sempre inerenti il tema della maternità. Vi saluto e vi aspetto al prossimo!